Grazie ad alcune immagini emerse in rete conosciamo alcuni dettagli aggiuntivi sull'MMORPG dedicato all'universo Marvel che purtroppo non vedrà mai la luce. Prima di proseguire, come di consueto, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EvryEye.it. Definito come il più grande e più emozionante progetto attualmente in via di sviluppo nel portfoglio di Enad Global 7, questo gioco ambientato nell'immaginario della casa delle idee è stato annunciato alla fine del 2021, salvo poi sparire per diversi mesi. Purtroppo, pochi giorni fa, ne è stata comunicata la cancellazione, in occasione di un meeting dedicato alla presentazione dei risultati finanziari. Parliamo di una gestazione che avrebbe comportato l'investimento di ben 48 milioni di euro, una cifra questa che verrà ripartita in molteplici progetti di proporzioni minori. Tra i titoli che beneficeranno della riallocazione delle risorse sono stati citati The Lord of the Rings Online, DC Universe Online e alcune nuove IP. Ad aumentare il dispiacere per la fine prematura di questa nuova esperienza, basata sui mondi Marvel, ci hanno pensato le immagini relative ad alcuni dei contenuti che avrebbe offerto apparsi sull'account ArtStation di Ramiro Galan. Il creativo in questione è un UI, UX e motion designer di Pixel Kings, uno dei team incaricati di offrire supporto alla realizzazione di questo MMORPG. Nello specifico, gli scatti sono dedicati alla fase di creazione del personaggio, di cui si poteva personalizzare non solo l'aspetto estetico, ma perfino la fazione di appartenenza. Per cominciare, era possibile modificarne il sesso, l'altezza, la muscolatura e il volto, per poi passare al vestiario e alla natura dei suoi superpoteri. Gli screenshot mostrano un eroe capace di lanciare scariche elettriche e incline a indossare tanto degli abiti in grado di riflettere la tipologia delle sue abilità, quanto degli indumenti più casual. Ciliegina sulla torta, era possibile creare la copertina del fumetto legato alla prima apparizione del protagonista, che poteva unirsi a gruppi supereroistici a dir poco iconici. Parliamo di X-Men, Avengers, Fantastici 4 e S.H.I.E.L.D. Tra l'altro, nel descrivere la sua visione creativa, Galan ha affermato di voler riprodurre lo stile e le tonalità di Spider-Man, un nuovo universo, il capolavoro d'animazione del 2018. Qui si esauriscono i nuovi dettagli emersi sul titolo cancellato, ma prima di salutarvi vi lasciamo la parola. Vi sarebbe piaciuto giocare a questa esperienza multiplayer basata sull'universo Marvel? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. Grazie per la visione!